november italia zulu 5 oscar quebec november in cui se ho qui l'italia z1 alfa sierra mike nicola da bordighera io il sottoscritto italia w5 canada italia nicola ho avuto un problema con la registrazione del filmato ti chiederei per favore di fare un altro passaggio così ti registro correttamente fra l'altro il tuo segnale è anche più forte avanti nicola a te il cambio poi ritornerai per il collega appunto che è entrato appunto nel quso a te il cambio nicola l'italiano india 25 charlie india questa italia ancora fa ora milano bordighera e cutiacca sto promettendo con un giorno con vicky regia la patenza 30 a 40 al massimo riceve invece con un r4 ciladro che non è un dipolo in vertiglio autocostruito allora ti prenderai quando il tuo turno di darmi cutiacca perché non ho fatto il tempo a scrivere in base alle due indicazioni rivolto l'altenna india a 05 escar qua da che non roma se mi ascolta questa india a 01 alfa sierra mike nicola bene grazie grazie per l'ultimo detto ringresso buona domenica tramite l'italiano 25 charlie india adria e da l'italiano 1 al passiero mike nicola in bordighera qui l'italiano 5 oscar quel vecchio novembre non so se mi ascoltate e il mio cutiacca è marseille ma saccarada e il mio nome è ivano trasmetto con un'auto costruito e dicevo con l'area 17 segnale per evita 1 passera mai che è molto forte molto più decisivo di quello di andrea che andrea ascolta diciamo un pochino più basso mentre ne colla lo ascolto bene mi direte se mi ascoltate percanto l'impasto del micropono all'italiano whisky 5 charlie via andrea qui in Italia 05 8 car quel vecchio novembre e il mio nome è ivano ripeto la città e ma sacco e sere Z5 OQN buongiorno da whisky 5 charlindi arrivi molto bene alla mia stazione senza nessun problema segnale molto forte e perfettamente comprensibile io ritorno subito per il Nicola così registro un altro dei suoi passaggi perché gli sto facendo un filmato per Youtube e quindi vediamo subito come viene ricevuto e lo può ascoltare su Youtube Nicola penso di metterlo in linea entro la fine della mattinata Italia Zuluno ASM a te il cambio da whisky 5 charlindia ti registro anche questo passaggio vai sono molto bene Andrea india whisky 5 charlindia ritorna india zunno lo facciamo mai te dico la bordighiera mi sentite qualche amico l'ho il Z5 mi sono venuto per un attimo distratti non ho sentito non so se ne ha detto le condizioni di lavoro ma questa guerra è veramente forte non ho visto 9,940 e comunque siamo tutti l'ordine di segnale lì la radio è molto buona per entrambi ma la comprensibilità totale è molto piacere riutilizzare questa radio che hanno fatto la gloria degli anni che furono quando non c'era la l'SSD e c'era solo la modulazione di ambiente l'ordine di segnale io carissimo Andrea non mi è di un piccolo con YouTube però se vuoi vederlo il mio lo vuoi vedere in azione basta che digiti il nominativo di un mio grandissimo l'Ibia chi è un uro l'Ima bravo l'Ima il testo è un 75 a 4 della Cori riusciva a fare gli americani in modulazione di ampiezza è molto molto malo filmato tra l'altro come poi è capace di puntare veramente bene con tanto di sigle con l'olio sonora e con tanto vedrò di fare anch'io qualcosa di simile per apporto ma prima voglio fare un setup di stazione molto più performante per la modulazione di ampiezza poi naturalmente mettere anche un po' in ordine che qua sembra che si è flotta la bomba in stazione con tutti gli sforzamenti e gli aggiornamenti che vengono fatti per il fine settimana per poter operare in modulazione di ampiezza come tantissimi anni fa benissimo allora col permesso un attimo di Z5 Oscar 4K90 rido l'antenna a te Andrea perché poi devo uscire a limite ci si sente più tardi fino a mattinata perché no anche a pomeriggio allora con pazienza un attimino in mano a te Andrea Andrea India Whiskey 5 ciao l'India vi c'è taluno assieme